La maggior parte delle persone che clicca sul tuo video si forma un'idea di te e del tuo canale in soli 7 secondi o forse anche meno. Cosa stai dicendo tu per convincere il pubblico a guardare tutto il tuo video? Oggi parleremo proprio di questo, però prima vai con il branding, la nuova sigla di Tutto su YouTube. Eccoci con il nuovo consiglio settimanale per migliorare il tuo canale ogni giovedì alle 18. Insomma, alle persone bastano pochissimi secondi per decidere se guardare o no tutto il tuo video. La maggior parte degli abbandoni si verifica proprio nei primi 15 secondi. Questo significa che è proprio all'inizio del video che si gioca tutta la partita e che dobbiamo dare il meglio di noi. Oggi vediamo che strategie possono applicare nei primi 15 secondi tre canali molto diversi, un canale di intrattenimento, un canale di tutorial e un canale aziendale. Hai un canale di intrattenimento? Devi ricercare un'emozione forte fin dall'inizio, uno shock, una provocazione oppure una risata. Aggancia il tuo pubblico con una provocazione, inizia il tuo video con una frase inaspettata, scioccante e in questo modo ne stimolerai subito la curiosità. Oppure puoi puntare tutto sul divertimento e rompere il ghiaccio con una battuta o una storia divertente. Facendo subito divertire ed emozionare positivamente il tuo spettatore, accorcerai la distanza che c'è fra te e lui e ti guadagnerai subito la sua simpatia. Hai un canale dove fai tutorial oppure fai video informativi? Fai vedere subito cosa sarai in grado di fare il tuo pubblico dopo aver visto i tuoi video ed aver appreso i tuoi insegnamenti. Cerca di individuare qual è la maggiore preoccupazione del tuo pubblico rispetto all'argomento che stai trattando nel video e spiega fin da subito che guardando il tuo video potrà trovare la soluzione ai propri problemi. Voglio scontornare una foto con photoshop ma ci metto troppo tempo e mi rimane troppo difficile. Spiega che con il tuo video mostrerai una procedura che renderà questa operazione facilissima e veloce. Voglio ottenere un trucco particolare ma non ho dei prodotti professionali e costosi per realizzarlo. Spiega al tuo pubblico che con il tuo tutorial potrà ottenere ottimi risultati anche con dei trucchi economici. Una buona strategia è anche quella di mostrare proprio all'inizio del video un teaser di quello che sarà il risultato finale. In questo modo farai subito assaggiare al pubblico il contenuto del tuo video e se lo troverà abbastanza interessante deciderà di guardarlo fino alla fine per scoprire come hai fatto ad ottenere questi risultati. Nel tuo video parli di un prodotto o di un servizio? Cerca di capire quali sono le principali obiezioni del pubblico o del target rispetto a quello specifico argomento. Cerca di rispondere in anticipo a quelle che sono le domande e i dubbi più frequenti del tuo pubblico e soprattutto mostra che grazie a quello che offri otterrà un vantaggio reale per la sua vita o per il suo lavoro. L'introduzione del tuo video non deve focalizzarsi sulle caratteristiche del prodotto ma su quelle che sono le esigenze del tuo pubblico. Ricorda bene tre cose. La prima cosa che vede lo spettatore quando apre un tuo video deve essere coinvolgente e convincente. Anche il tuo sguardo, i tuoi gesti, il tono della tua voce, la musica che userai e la qualità del video influenzeranno la prima impressione del tuo pubblico. Quindi niente deve essere lasciato al caso. Seconda cosa, se hai una sigla che dura più di 5 secondi allora questa sigla è troppo lunga a meno che questa sigla non sia particolarmente divertente. Mettere la tua sigla all'inizio del video la maggior parte delle volte non è la scelta migliore soprattutto se il tuo canale deve ancora farsi conoscere. Prima fai la tua introduzione ad effetto e poi mandi la sigla. Terza cosa, pensa anche a quello che è scritto nel titolo del video. Se nel titolo del video è scritto una cosa e poi invece cominci il video parlando di un'altra cosa allora devi spiegare perché altrimenti lo spettatore si sentirà preso in giro ed abbandonerà il tuo video. Ricapitolando, rivolgiti al tuo pubblico, salutalo e stimolalo a guardare tutto il video, dagli una motivazione e poi non c'è una formula che vada bene per tutti i video perché video di settori diversi hanno pubblici differenti e quindi richiedono delle strategie diverse. Per capire qual è l'introduzione che fa per voi e quindi quella giusta per il vostro pubblico vi lascio dei compiti a casa. Analizzate i 10 video migliori e 10 video peggiori del vostro canale e cercate di capire che cos'è che ha funzionato e cos'è che non ha funzionato nell'introduzione di questi video. Aiutatevi anche con il rapporto di YouTube Analytics sulla fidelizzazione del pubblico per capire dov'è che le persone abbandonavano il video e invece quali sono state le porzioni di video che sono state più coinvolgenti per il pubblico. Ma non fermarti al tuo canale, studia anche canali simili al tuo che hanno già molto successo. Guarda le introduzioni dei loro video ma studia anche i commenti perché dai commenti puoi costruirti un modello mentale di quello che è il tuo spettatore e capire che cosa vuole dai video. L'ultimo compito che vi do per casa è leggere l'articolo che ho appena pubblicato su questo argomento e nel quale troverete tanti approfondimenti. Trovate il link nella descrizione. Mi raccomando seguitemi anche sui social, sono su Twitter, poi c'è la pagina di Google Plus e la pagina di Facebook. Seguitemi perché durante la settimana pubblico delle informazioni utili che poi non troverete nei miei video. Vuoi scoprire di più sul mondo di YouTube? Allora clicca sul primo video qui a fianco per vedere come realizzare quelle grafiche finali dei video che rimandano ad altri video anche se non sai un grafico e anche se non sai usare Photoshop. Mentre se hai un canale improntato sul visual ti consiglio il secondo video che parla di come puoi utilizzare anche Pinterest per promuovere i tuoi video e il tuo canale. Iscriviti al canale perché ci vediamo giovedì prossimo alle 18 con un nuovo video. Ciao!